nome funfecchio caratteristiche magro e basso habitat abita con funghello in una casa sull'albero cosa mangia muschio sport tennis e calcio qualità furbo e creativo poteri telepatia con funghello abitudine spaventa i passanti amico funghello verso banzai nome larry chop dimensioni altezza dai 20 centimetri ai 30 centimetri lunghezza dai 40 centimetri ai 50 centimetri comprese le braccia verso muggito abitudini aspetta che le ghiande cadano dagli alberi perché non vuole salire carattere pigro mangione aggressivo con gli umani habitat vive sottoterra sotto le querce ballo preferito tango nome mr brown dimensioni alto 66 metri caratteristiche baffuto saggio carattere timido habitat in un albero al centro del bosco anni mille verso auuuu cibo foglie caffè coca cola nome ermene gilda white caratteristiche è alta con lunghi capelli biondi e col naso aquilino e sempre vestita elegantemente è una principessa aliena proveniente da cloud world città molto rinomata nello stato nuvoloso cibo tacos radioattivi spazialosi vita sociale è fidanzata con petunio ed insieme hanno comprato un lamantino roccoso abitudini ama fare shopping da ciucci verso la monocchi ciao 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 Grazie a tutti